Inaugurata questa mattina nella sede di Chimambiente la sala di monitoraggio e controllo collegata alle 30 fototrappole posizionate in città contro l'abbandono di rifiuti, in particolare ingombranti. Presenti l'assessore all'ambiente Paolo Castronovi, il presidente di Chimambiente Giampiero Mancarelli e l'amministratore delegato di ITS Aniello Danna. Entra dunque nel vivo la fase operativa di contrasto al fenomeno delle discariche abusive lungo le strade e nelle aree più periferiche del territorio. Soltanto il primo step spiega Mancarelli, presto avremo altre 100 fototrappole per poi passare anche all'installazione di videotrappole. Chimambiente Amiu inizia questa nuova avventura con questo sistema di controllo del territorio e soprattutto da una parte con l'indicazione all'interno dell'azienda per renderla sempre più efficiente e quindi noi adesso abbiamo GPS per i nostri mezzi nonché rispetto ai dipendenti. Questo per garantire efficienza da un lato, dall'altro però chiediamo igiene e decoro alla città come la gran parte dei cittadini chiedono e per questo abbiamo inserito queste videotrappole, ne sono state installate 30 grazie alla collaborazione di ITS che è anche ditta fonditrice di Agere che quindi fondirà altre nuove videotrappole. Il primo step importante, il secondo sarà quello di dotare nuove videotrappole che saranno messe nelle zone di più alta frequentazione. Questo che cosa vuol dire? Che da qui in avanti i cittadini dovranno sapere che potranno essere videosorvegliati e quindi avere delle multe salate, non solo multe ma anche denunce dal punto di vista penale per l'abbandono dei rifiuti. Questo che cosa vuol dire? Per quanto riguarda gli ingombranti noi abbiamo un numero verde che è 813739 che gratuitamente mette a disposizione nostri operatori affinché si possano prelevare dalle proprie abitazioni gli ingombranti. Quindi chiediamo ai cittadini di non continuare questo malvezzo di una parte piccola di coloro i quali lasciano in ogni dove, in ogni angolo della nostra città questi ingombranti. Dall'altra parte chiediamo ai cittadini di conferire secondo gli orari prestabiliti e secondo le modalità stabilite per i cassonetti ingegnerizzati. È una rivoluzione, vogliamo garantire che Taranto entri nel futuro e che non ci siano più situazioni incresciose che non vogliamo più vedere. È una sfida grande, importante, ma che vede chi m'ambiente prima nel mezzogiorno d'Italia dotarsi di una sala di controllo e gestione del territorio. La tecnologia che noi andiamo a fornire a lente è focalizzata sull'utilizzo di apparati di videoripresa o fotoripresa. L'aspetto importante, innovativo e unico del settore è l'attribuzione di un applicativo specifico che ne permette anche una sanzionabilità semplificata da parte dell'operatore, oltre alla possibilità di un controllo remoto, non necessariamente quindi un accesso sui sistemi di ripresa e questo semplifica enormemente l'attività di controllo e di sanzionabilità. È un prodotto esclusivo e siamo ben felici di affiancare lente in questa attività. Riteniamo in futuro di poter fornire anche ulteriori add-on che ne possano migliorare la performance. Chimambiente Ameo è la prima azienda che si è dotata di questo sistema di controllo del territorio che ci aiuterà a contrastare l'abbandono indiscriminato. Lo avevamo promesso qualche settimana fa, adesso si è concretizzato e con queste 30 telecamere riusciamo a controllare gran parte delle zone che sono state oggetto di abbandono negli scorsi mesi. Speriamo che adesso i cittadini seguano il nostro indirizzo nell'utilizzo dei sistemi tradizionali di conferimento così da evitare anche una multa salata.